Tutto pronto per la sfida del Vito Curlo tra Fasano e Casarano, valida per il terzo turno del girone H di Serie D. I padroni di casa, reduci da due vittorie consecutive contro le campane Puteolana e Sorrento, cercano punti importanti in chiave salvezza. Gli ospiti, che fino ad oggi hanno affrontato non poche difficoltà al di fuori delle Muramiche, hanno bisogno di tre punti per confermare la vetta e dar seguito al ritrovato successo di mercoledì contro il Portici. Passiamo dunque alle probabili formazioni della vigilia. Costantini per i biancazzurri dovrebbe confermare il 3-5-2 con l'unica assenza rappresentata da Dorval, esterno Anders qualificato a Sorrento. Dovrebbe dunque esserci summa tra i pali. Dinanzi ad esso nelle linee a tre ci saranno invece Camara, Lopez Petruzzi e uno tra De Miranda e Urquiza, con quest'ultimo in netto vantaggio a discapito del primo. Possibile esordio in cabina di regia per Meduri, che verrà affiancato da Urruti e Di Fino, mentre sulle corsie esterne sarà il turno di Bernardini e Merillo. Il tandem offensivo dovrebbe vedere protagonisti d'Ambros, mentre al suo fianco sarà staffetta Dellino e Lo Savio. Per gli ospiti è invece emergenza in infermeria medica, con Feola che potrebbe recuperare in extremis Negro e Giacomarro, oltre che Tascone, quest'ultimo che torna dopo aver scontato la squalifica nel turno precedente. Assente invece Sansone, mentre dovrebbe rifiatare Rodriguez uscito dalla gara interna contro il Portici, leggermente affaticato. Sarà dunque 4-3-1-2, con Guido che tornerà tra i pali. In difesa ci saranno Quacquarelli e Longhi sugli esterni, supportati centralmente da Mattrello Bianizze. A centrocampo, scelte forzate con Feola, Bruno ed Argento, con quest'ultimo che ha bene impressionato nella prima apparizione del titolare. Sulla tre quarti, Mincica dovrebbe partire dinanzi a Tascone, mentre in attacco sarà Coppia-Santoro-Favetta. Calcio d'inizio fissato per le ore 14.30 e gara diretta dal signor Domenico Castellone, fischietto della sezione di Napoli.